Un'accademia per gli autisti di Autoline Toscane, che copre anche le spese per le patenti di categoria superiore e per la formazione specialistica. È quanto annunciato dalla stessa azienda. Il progetto pilota, guarda i giovani che saranno assunti subito con un contratto di apprendistato della durata di tre anni e saranno formati come conducenti senza dover sostenere sforzi economici. Il progetto partirà con 20 giovani autisti prima di quest'estate, ma il programma prevede di ripetere nuovi corsi. Uno dei fattori che frena chi vuole fare l'autista di bus è proprio quello che riguarda i costi necessari per ottenere le abilitazioni al trasporto di persone. Per la patente D e per il CQC, la carta di qualificazione del conducente, il costo è di qualche migliaio di euro che non tutti, soprattutto i giovani, possono permettersi. Accademia è anche un modo di formare in casa le nuove lebe con i requisiti richiesti a tutti gli autisti di Autolinea Toscane. Conoscenze tecniche dei mezzi e del settore, della sicurezza sul lavoro, capacità di relazione con i passeggeri, conoscenza della rete urbana e extraurbana, fino allo stile di guida per garantire qualità, comfort e sicurezza durante il viaggio in bus. Accademia prevede corsi per ottenere la patente D e la CQC. Grazie a un accordo con il Consorzio Autoscuole Fiorentina, il costo per la patente e il CQC sarà finanziato con il contributo del Fondo Interprofessionale di Formazione Continua, cui è iscritta la società. I requisiti principali sono avere un'età tra i 21 e i 29 anni e non possedere patenti specialistiche in quanto vengono conseguiti durante l'apprendistato professionalizzante. Sono ammesse solo le patenti BC e CE. La presentazione delle candidature dovrà avvenire compilando un modulo al seguente link www.httpsplayyourjob.com.atbus Il portale sarà attivo da domani.